Musica Eeeh Bella attrazione di XMAX e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo trovati qua in un video LEGGENDARIO ragazzi Perché oggi siamo qua Per salutare insieme l'evento E oggi andremo a shoppare la nostra Ultima mega offerta ma non è una mega offerta In quanto andiamo a prendere una skin esclusiva Perché purtroppo Non ho abbastanza verdoni per prendere una terza skin esclusiva Sul primo account ma abbiamo Come vedete 7195 verdoni ancora Quindi ragazzi non andiamo a shoppare una mega offerta Andiamo a shoppare una nuova offerta Andiamo a prendere Mortis da spiaggia con un overdrive casuale 3 star drop e un icono giocatore Io sopra questa offerta perché mi piace L'overdrive gratis quindi ragazzi lascio però Per questo video vi chiedo un like, una iscrizione e una campanella Condividetevi tutti i vostri amici Seguitevi su YouTube su Discord, guardatevi la link in descrizione Sesto link in descrizione per entrare in server Discord Prima link in descrizione per abbonarvi Secondo link in descrizione per abbonarvi i miei shoppers Adesso la link in descrizione per fare una piccola donazione Guardate la link in descrizione Perseguimi sul sito viola Mi raccomando seguitemi Mettete tutti i codici creatori di Xmax Su Fortnite e i big games Prima link in descrizione scusate ragazzi Mi raccomando perseguimi su Instagram Mi raccomando seguitemi Codici creatori di Xmax su Fortnite e i big games Magari questa sera in live lo riventi E Non perdetevi il show dalle 15.15 Rilegge il set dei 45 E forse anche delle 11.45 E quindi non perdetevi Dato questo ragazzi vi direi di andare a shoppare Questa offerta Mortis da spiaggia 38 gemme Più tutti i verdoni che ho Ma mi conviene Perché prendo un overdrive Una skin di Mortis Un'unico giocatore E anche 3 Star Drop Quindi sono contento 3 2 1 Andiamo a shoppare questa offerta ragazzi Mi conviene perché ragazzi C'è l'overdrive E poi i verdoni se no li butto via Mortis Da Spiaggia Non andiamo a trovare Perché abbiamo Mortis Mace Però comunque È sempre una skin in più Quindi va bene Star Drop Super raro Star Drop Raro Vabbè meglio di niente E Star Drop Super raro Comunque tutto scritto in descrizione ragazzi I link Star Drop dell'overdrive Vedremo cosa andremo a trovare Ragazzi per voi cosa troviamo In questo Star Drop E non dell'overdrive Ragazzi io non saprei Però vediamo Adesso andremo a vedere Cosa andremo a trovare In questo Star Drop dell'overdrive Scrivete nei commenti per voi Cosa andremo a trovare 3 2 1 Oh Oh Quello di Colt E allora arriverà un video In cui lo portiamo a livello 11 E allora arriverà un video In cui lo portiamo a livello 11 Sono molto contento Quello overdrive di Colt È molto molto buono Sono contento L'icona giocatore non me l'ha data Sì forse me l'ha data Sì Aspettate che ve la controlla Perché Forse non me l'ha data Aspettate un attimo Ragazzi me la devi aver data però Ok sì eccola qua È questa qui di SpongeBob Adesso non la metto però È questa qui di SpongeBob Sono molto contento ragazzi Sì ho fatto bene Adesso abbiamo 0 verdoni 0 verdoni Però va bene Tra l'altro ragazzi È uscito questi sushi per tutti Dobbiamo andare a prendere Tutte queste cose qui Molto interessanti Disponibile per 6 giorni Mi bisogna prendere tutto Io direi di prendere Quei il primo graffito Il primo giorno In questo video Che è molto interessante Comunque andare a prenderlo Bello 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 Sono contento Dato questo ragazzi Io direi di andare a provare Questa skin Mortis Piazza Che è una skin molto interessante Tra l'altro Cioè sinceramente Certo ragazzi Io ho la skin Mortis Mecha Quindi Cioè Ho capito che Mortis Piazza È una skin comunque Non come Mortis Mecha Però è comunque Una buona skin E niente Vi devo andare a provare Non in coppe Perché Non sono concentrato abbastanza Adesso vado a droppare Mi perdo la win streak Che poi mi serve Questa sera in live alle 20 Quindi ragazzi Non mancate in live Perché in live si push Si fanno rank 30 Amichevoli Sfilate Nascondino In amichevoli E pushiamo anche coppe Quindi venite tutti in live Ci vediamo che facciamo Anche due chiacchiere Intanto quindi venite in live Allora Certo che uno Che ha mortis mecha Che usa questa skin È un po' Messo male Però vabbè ragazzi A me non mi interessa Sì bisogna chi Ma dove sono i nostri avversari Eccoli qua I vostri avversari Cioè ragazzi Eccolo qua il bro Ragazzi non li avevo visti Vi fatto un gadget Così ho preso Tutti e due gli avversari Anche se comunque Ragazzi Sono d'accordo con voi Sì ragazzi Io ho preso questa skin Perché c'era l'overdrive gratis E i verdoni Tanto non mi servono più E ho detto Spendiamoci 38 gemme E prendiamoci Una skin più L'overdrive Più anche 3 star drop E un'icona giocatore Che comunque ragazzi Non si butta via Meglio avere che non averla Ecco Sì però certo che Il nostro è un po' stupido Questo è il nostro compagno Allora Io mi provo A spostarmi verso di qua Se colate riesce a killare Non ha killato nessuno La vedo male Perché credo che siamo Un po' un team I miei compagni Non sono fortissimi Sì vabbè Però Rix Maxx Se tu fai dash Sul muro È colpa anche mia Devo essere sincero Io sono sincero Ragazzi con tutti È anche colpa mia Non posso dire niente È anche colpa mia È anche colpa mia Ragazzi gli ho regalato Sinceramente Gli ho proprio regalato I ulti Ulti appena posso Dai E vabbè Almeno ho preso due avversari Due nemici Con la ulti Però ragazzi Comunque Questa qua è proprio Lose Lose Ma vabbè Non ci posso fare nulla C'è GG per loro E basta GG per loro Peccato Speravo di fare qualcosa di meglio Vabbè Va bene Va bene Va bene Niente Niente Va bene Ragazzi io mi interessava Prendere questa Questa ultima Offerta Con voi Prendere un brawler Portarlo all'undici Perché ragazzi io volevo Si colta un buon brawler Portare all'undici Quindi sono contento Vabbè ragazzi Dici per loro Non posso dire niente Se la sono meritata Abbiamo giocato male Abbiamo fatto pure un'altra missione Tra l'altro ragazzi Per uscire pure il passo Opening del passo Quindi ragazzi Non perdetevi Mi raccomando questo video Ci abbiamo voluto stare Troppo leggendario alla fine Ragazzi Veramente è un video Leggendario Ci spostiamo un attimo Sul terzo account Dobbiamo ritirare alcune cose Anche lì E le prendo in questo video Così c'è tanto Tanto Contenuto Sono contento Eccoci qua sul terzo account Andiamo qua Andiamo a prendere pure qua Sushi Per tutti Primo giorno Un graffito Un graffito in più Va bene Cioè ce lo prendiamo Ce lo prendiamo Non lo rifiutiamo Va bene Ci prendiamo pure Questi 10 punti energia Che comunque Non sono male Non ho nessuno mai Che sono male Però comunque Li prendo Perché per me È una cosa buona Abbiamo pure 60 verdoni qua Però vabbè Non ci possiamo fare nulla Cioè scusate 4590 verdoni Abbiamo un overdrive 830 Significa 39 gemme No non conviene Questo qua quante sono 227 gemme No troppo Vabbè Abbiamo capito Che qua costava ancora meno La skin Beh questa skin qua È una bella offerta Però Però purtroppo ragazzi Non È una bellissima offerta Questa qua Però purtroppo ormai Non ho più verdoni Quindi niente Non possiamo farci nulla Vabbè comunque raga Oh abbiamo pure un power mill D'aprile Ce lo prendiamo E abbiamo il Uh Il carinetto in legno A livello A livello 1 Dobbiamo aprire anche Sul primo Sull'altro account Raga E vabbè Purtroppo abbiamo andato ormai L'addio All'evento dei verdoni Però Quando dice questo video L'evento non ci sarà più Però comunque siamo contenti Tra l'altro qua abbiamo pure Una skin di tic E Veramente bella Abbiamo preso pure La skin di buzz Ci sono diversi video Ragazzi Andate a vedere Dov'è buzz Dove sei buzzone Eccolo qua Quindi abbiamo preso Poi questa skin qua Quando sono contento E niente Torniamo sul primo Su primo Eccoci qua Che abbiamo il primo account Ragazzi Un po' mi dispiace Che non sono riuscito A prendere un'altra skin Però vabbè Abbiamo pure un altro Sì abbiamo un power mill Da aprire proprio qua Ragazzi ma che video Vi porto di Xmax Vabbè Ah non la sei livello 3 Vabbè ho capito L'unico che non mi vuole Darla cura a livello 3 È il gioco Proprio non mi vuole Darla cura a livello 3 Cioè la spatola E la cura Che sono le migliori Non me le ha ancora date Vabbè E vabbè Tanto ormai È finito l'evento Per questo video Vi chiedo un like Un'iscrizione Una campanella Con i video Di tutti i nostri amici Seguitemi sull'editacca Su Discord Questa è la link in descrizione Sì è la link in descrizione Per mettere il mio server Discord Prima è la link in descrizione Per abbonarvi Secondo la link in descrizione Per comprare i miei Shorts Ad Xmax Adesso la link in descrizione Per fare una piccola donazione Guardo la link in descrizione Per seguirmi su Instagram Quando seguite Vi invito a tutti Il codice creatore di Xmax Su Fortnite Epic Games Codice creatore di Xmax Seguitemi su Instagram Mi raccomando Prima è la link in descrizione Mi raccomando Abbonatevi E niente ragazzi Se voi avete ferito Verdoni Io li ho finiti del tutto Sia sul primo Sia sul terzo account Zero Verdoni sul primo E 60 sul secondo Sul terzo Quindi Siamo abbastanza messi bene Non mancare questa serie Di live alle 20 Non perdere i vlog short Delle 11.45 15.45 E 17.45 Questo video Deve uscire sabato 15.45 Forse non 15.45 Vlog short Però comunque va bene Spero che questo video vi sia piaciuto Scrivete nei commenti Se vi è piaciuto Qualche consiglio E ciao ragazzi Ciao